25 comuni al voto in provincia di Como. Il prossimo 5 giugno circa 50.000 lariani, stando ai numeri relativi agli aventi diritto al recente referendum sulle trivelle, saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Le amministrazioni interessate sono Blessagno, Carateurio, Carbonate, Carlazzo, Cavarnia, Eupilio, Faloppio, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Inverigo, Lasnigo, Nesso, Novedrate, Olgiatecomasco, Pianello dell'Ario, Pigra, Ponna, Pusiano, Sanfermo della Battaglia, Sormano, Tavernerio, Trezzone, Valsolda e Veleso. Il comune più piccolo è Trezzone che conta circa 230 abitanti, il più grande è Olgiatecomasco con poco più di 11.500, seguito da Inverigo con circa 9.000. Domani intanto si chiuderà a mezzogiorno la presentazione delle liste elettorali, quindi si entrerà nel vivo della tornata elettorale.